cari amici che come me amate l'arte un saluto da nat russo oggi nei giorni seguenti voglio parlarvi di un movimento artistico che mi ha sempre entusiasmato il dadaismo e ne parleremo sotto diversi aspetti anche perché il percorso dei dadaisti pur brevissimo è contraddistinto da alcune precise tappe e noi seguiremo queste scansioni ideali intanto dove nasce il dadaismo nasce giocoforza a zurigo nella svizzera neutrale della prima guerra mondiale giocoforza perché qui si erano rifugiati alcuni artisti e si sviluppa tra il 1916 il 1920 il movimento ha interessato soprattutto le arti visive ma poi si è esteso anche alla letteratura la poesia i manifesti artistici il teatro e la grafica che concentrava la sua politica antibellica attraverso un rifiuto degli standard artistici attraverso opere culturali che erano contro l'arte stessa insomma il dadaismo mette in dubbio e stravolge le convenzioni dell'epoca dall'estetica cinematografica o artistica fino alle ideologie politiche propone un rifiuto della ragione della logica enfatizza la stravaganza la derisione l'umorismo gli artisti dada erano volutamente rispettosi erano stravaganti provavano disgusto nei confronti delle usanze del passato ricercavano la libertà di creatività assoluta per la quale utilizzavano tutti i materiali e le forme disponibili le attività dada includevano manifestazioni pubbliche dimostrazioni pubblicazioni di periodici d'arte letteratura le tematiche trattate spaziavano dall'arte alla politica dada nacque come protesta contro il barbarismo della prima guerra mondiale e in seguito il movimento divende più improntato su una sorta di nichilismo artistico che escludeva e condannava la rigidità e il manierismo in vari campi dell'arte come la letteratura la pittura la scultura tutto ciò era applicato anche soprattutto alle convenzioni della società in cui gli artisti vivevano il dadaismo ha influenzato tanti stili artistici e tanti movimenti che sono nati successivamente per esempio il surrealismo o il gruppo neo dada fluxus e così via dada è stato un movimento internazionale ed è relativamente difficile classificare gli artisti in base al loro paese di provenienza in quanto si spostavano costantemente secondo i dadaisti stessi il dadaismo non era arte anzi era anti arte tentava di combattere l'arte con l'arte per ogni cosa che l'arte sosteneva dada rappresentava l'opposto cioè se l'arte prestava attenzione all'estetica dada ignorava l'estetica se l'arte doveva lanciare un messaggio implicito attraverso le opere dada tentava di non avere alcun messaggio infatti l'interpretazione di dada dipende interamente dal singolo individuo se l'arte voleva richiamare sentimenti positivi dada offendeva attraverso questo rifiuto della cultura e dell'estetica tradizionali i dadaisti speravano di distruggere loro stessi ma ironicamente dada è diventato un movimento che è stato molto forte e ha influenzato tutta l'arte moderna la ragione e la logica avevano lasciato alla gente gli orrori della guerra l'unica via di salvezza era il rifiuto della logica per abbracciare l'anarchia e l'irrazionalità comunque tutto ciò può essere inteso come lato logico dell'anarchia e il rifiuto dei valori e dell'ordine ma la distruzione sistematica dei valori che loro praticano in questo senso non è irrazionale se si pensa che debba essere messa in atto cioè una strategia razionalissima ma cosa vuol dire data ma diciamo col dire che l'origine stessa della parola non è chiara esistono varie interpretazioni e vari fatti collegati con la scelta del nome io vi dico la mia opinione da 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 è uno dei primi monosillabi che pronuncia il neonato e quindi per me da da è un ritorno all'origine di tutto il neonato è una carta bianca che non ha o non dovrebbe avere nulla dietro di sé non ha storia non ha memoria non ha educazione non ha formazione esiste in sé e quello che lui dice da 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 è un primo segno di esistenza come dire io ci sono ma vediamo cosa ne pensano altri ben più colti importanti documentati e autorevoli di me per esempio tristan sarà lo definì il termine come un non senso così un gioco di parole anzi r ne sostiene la derivazione dall'uso frequente della parola da che vuol dire sì in russo che anche un intercalare dominic no guaz docente di estetica delle letture del cinema alla sorbona ipotizzò che l'origine del termine fosse in rapporto con lenin in quanto probabile frequentatore del cavare volter ma in ogni caso volendolo tradurre letteralmente in russo significa due volte sì in tedesco due volte qui in italiana e francese costituisce una delle prime parole che i bambini appunto pronunciano e con la quale essi indicano tutto dal giocattolo alle persone quindi con data si può dire qualsiasi cosa secondo una testimonianza di richard welsen beck uno tra i primi fondatori del movimento la parola data significa in francese cavallo a dondolo e tale parola fu scoperta in modo del tutto casuale fortuito da lui e dall'amico hugo balla il regista del futuro cavare volter di cui parleremo mentre erano intenti a scovare tra le pagine di un vocabolario tedesco francese un nome appropriato per la cantante del loro cavare che era madame l'erroi ora facendo fede a questa testimonianza la scoperta del nome si collocherebbe sulla scia di quella casualità illogicità che sono tratti peculiari dell'intero movimento dadaista ricordiamoci che siamo nella zurigo del 1916 e a partire proprio dal teatro e dalle manifestazioni visive la cultura ufficiale viene scardinata da un movimento nuovo e rivoluzionario che porta all'estremo il futurismo la derisione per ogni estetica e tecnica tradizionale messa in scena con grande presa sul pubblico anche il mondo della letteratura e dell'arte non possono che esserne travolti ma bisognerà aspettare il 1918 per ottenere il manifesto dada ad opera di tristan sarah va notato che secondo l'ideale dada il movimento non si sarebbe dovuto chiamare affatto dadaismo il nome dada venne creato proprio in opposizione a tutti gli ismi letterari ed artistici in fondo il dadaismo era una provocazione che seppe dimostrare quanto la gente reagisce con strane emozioni ad un'arte cioè ad una provocazione diversa dal solito la situazione storica in cui movimento a origine fine della prima guerra mondiale situazione politica pessima conflitti sociali esasperati e allora l'inclinazione sovversiva di dada trova il terreno giusto con un gruppo di intellettuali europei che si rifugia in svizzera per sfuggire alla guerra sono ans arp tristan zara marcell janko richard wesenbach e ans ritter dataisti